ma vediamo sti cancini ucciori ma basta tutti i cancini ucciori siamo sti sestri daco io non stico dracu dietre ab sì ma sti alla pronte no stiu ma stiu non stiu la finalul reprisei la finalul reprisei 80 de punca ai numai la finalul reprise pot aaa nu am zis multi medici gestel ma stiu Grazie. Grazie.